Buongiorno. Riprendiamo il nostro cammino, il nostro commento alla parola di Dio della Domenica, dopo l'interruzione delle feste del Natale e dell'Epifania. Con Domenica scorsa si sono concluse con la festa del cosiddetto Battesimo di Gesù. Vedremo che forse è improprio chiamarlo così. L'inizio del tempo ordinario, così si chiama il tempo che intercorre tra la fine delle feste di Natale e dell'Epifania e l'inizio della Quaresima, questo tempo ordinario, ci ripresenta di nuovo la figura del Battista che propone, che presenta e diciamo annuncia la venuta di Gesù all'inizio della sua predicazione. Ecco allora che incontriamo di nuovo la figura del Battista. Le letture che questa domenica avremo sono il brano tratto dal Vangelo di Giovanni al capitolo 1 ai versetti 29 e 34. Eccoci, incontriamo la figura del Battista e allora ci soffermiamo quest'oggi un po' per conoscerlo meglio, conoscere un attimo meglio la sua realtà, i suoi rapporti con Gesù e i suoi rapporti anche nel mondo al tempo di Gesù, nell'ambiente religioso che frequentavo. E potremmo anche dire una parola su quello che sono i motivi che hanno spinto gli evangelisti a trattare e a trattare nel modo che conosciamo la figura del Battista in relazione a Gesù. Ecco allora, primo elemento, proviamo un attimo così a conoscere meglio quest'uomo. Noi sappiamo che viene da una famiglia sacerdotale e il padre era sacerdote, Zaccaria, che lui abbandona. Nella sua attività lo troviamo che esce, abbandona l'ambiente familiare sacerdotale e gli evangelisti ci narrano la sua nascita con lo stile e il genere che usavano per le persone importanti del Vecchio Testamento nella storia biblica, per i personaggi importanti, quindi delle nascite con caratteristiche particolari. lui stesso riferisce che ha avuto, è stato inviato, ha avuto come una chiamata da dire ed è stato inviato e sceglie questa sua missione andando a vivere e a predicare nel deserto, vestendo e vivendo come uno dei profeti antichi e viene visto dalla gente come l'ultimo dei profeti prima dell'arrivo del Messia. Così lo indicherà anche Gesù e veniva indicato come il ritorno di Elia, quindi una figura che impersonava Elia e che testimoniava l'arrivo del Messia. La sua predicazione annuncia un giudizio radicale, un giudizio severo nei confronti di chi non è onesto, di chi non è osservante della legge. Lui attraverso la frase la scure è già posta alla radice dell'albero. Ecco, annuncia una separazione netta tra i buoni e i cattivi e richiama quindi soprattutto le categorie dei peccatori. A lui vanno i pubblicani, vanno i militari e a loro dà un invito ad una vita più onesta, a una conversione. Ma condanna anche senza con parole durissime, le categorie dei religiosi, quelli che noi conosciamo come gli iscrivi, i teologi e anche i pivi, i devoti, i farisei. Li condanna soprattutto per la loro esteriorità, perché non quello che noi chiamiamo la loro ipocrisia che Gesù pure metterà in risalto e quindi vanno da lui per farsi vedere, ma non per migliorare, cambiare, convertire la loro vita. E condanna anche senza appello i potenti. Ha il coraggio di denunciare perfino Erode, che era il re, per il suo atto immorale nello scegliere di sposarsi con sua cognata che aveva già dei figli. Ecco allora alcuni degli elementi, dei tratti caratteristici di quest'uomo. E ha un seguito di discepoli e pratica i digiuni, pratica le abluzioni rituali secondo la legge della religiosità ebraica. Quindi è un fedele osservante della legge e usa, diciamo, sottolineare il segno della conversione di coloro che lo seguivano, dei suoi discepoli e dei suoi fedeli, possiamo chiamarli così, attraverso l'immersione nell'acqua, che era un segno usato anche già nella tradizione ebraica e quindi questo segno di conversione. Usiamo la parola immersione e non battesimo, anche se tradizionalmente si usa questa parola, perché così possiamo distinguere ciò che faceva Giovanni da ciò che possiamo dire oggi facciamo noi, neanche che faceva Gesù. E' il segno che oggi facciamo noi dal nostro battesimo, perché era molto diverso come sarà diverso quello che farà Gesù. Ecco allora usava immergere i suoi fedeli nell'acqua come segno di conversione. Viene, a causa proprio delle denunce verso il potere, viene imprigionato da Erode, nonostante che Erode lo apprezzasse. Erode lo amava volentieri ascoltarlo e sarà costretto ad ucciderlo per la, diciamo, la gelosia, per l'invidia e la reazione sdegnata della sua moglie Erode. Quindi ecco un po' una figura molto particolare che si inserisce anche in un clima di invito a un cambiamento della religiosità che esisteva al tempo di Giovanni. Possiamo ricordare qui che c'erano anche comunità di persone che avevano lasciato un po' la religiosità del tempio, la religiosità ufficiale, istituzionale, perché era diventata soltanto formale, era diventata non vera, non essenziale, ed era diventata solo uno strumento per i propri comodi, per i propri arricchimenti, per le proprie ambizioni, ma non era più un vero culto a Dio. E queste erano un po' queste comunità che si ritrovavano col nome di Esseni. Una delle comunità principali stava a Qumran, molto vicino a dove Giovanni battezzava e si può supporre, alcuni studiosi suppongono, dei contatti anche con questi gruppi che si ritiravano per vivere una religiosità più interiore, più spirituale, più vera e più osservante. Probabilmente anche dei discepoli di Giovanni hanno avuto questi contatti, perché erano diffusi in quel periodo. Ecco, ora concentriamoci sul rapporto che c'è stato tra il Battista e Gesù. Sappiamo che tra i due c'era una parentela e che hanno la stessa età. La loro relazione, potremmo dire, gli evangelisti ci rappresentano fin dal concepimento nel momento della visitazione di Maria ad Elisabetta. Giovanni inizia la sua vita pubblica, la sua vita di predicazione, per primo rispetto a Gesù e usa, come abbiamo visto, il segno distintivo per i suoi discepoli dell'immersione dell'acqua. Gesù si unisce alla gente inizialmente, si unisce alla gente che segue Giovanni e si unisce anche alla gente che accoglie il segno dell'immersione, ma al momento dell'immersione o comunque in quella circostanza, quel segno non è più il segno di una conversione, ma diventa il momento in cui gli evangelisti ci presentano la manifestazione di Gesù, il suo essere messia, cioè l'inviato da parte di Dio, e il suo essere figlio di Dio. Questi sono attraverso i segni che in quel momento ci vengono descritti. Quindi sarà un momento particolare, totalmente diverso da quello che significava l'immersione nell'acqua per i fedeli che seguivano Giovanni. Probabilmente possiamo anche pensare che finché Giovanni non è stato imprigionato, Gesù possa avere seguito in qualche modo l'insegnamento, la predicazione del Battista, anche perché vediamo che prenderà, inizierà la sua vita, abbandonerà il Giordano, abbandonerà il sud della Giudea e si recherà al nord quando Giovanni viene imprigionato. Quindi quando lui smette di poter di predicare, Gesù ne prenderà, potremmo dire quasi il posto, inizierà la sua vita pubblica. Come Giovanni il Battista ha reso testimonianza nel Vangelo di oggi, lo sentiamo. Giovanni il Battista ha reso testimonianza a Gesù, lo ha indicato, aveva abbastanza chiaro, gli era stato comunicato, lui dice colui che mi ha inviato mi ha detto, quindi gli era stato in qualche modo comunicato da Dio come profeta, che Gesù, colui su cui sendeva lo Spirito Santo, sarebbe stato il Messia. E quindi Giovanni lo indica ai suoi discepoli, alcuni dei quali si faranno discepoli di Gesù, lo indica alla gente, quindi ha chiaro che non è lui il Messia, ma è Gesù che doveva venire. E dall'altra parte Gesù renderà testimonianza a Giovanni, dicendo chi siete andati a vedere, quindi riconoscendo la funzione di grande profeta, di annunciatore delle esigenze di Dio, ma gli riconoscerà anche che non è entrato nel regno, che è rimasto l'ultimo dei grandi prima della novità portata da lui. Dice il più grande dei figli di donna, ma è il più piccolo di quelli che entrano nel regno dei cieli. Ecco allora, che il Battista, pur avendo indicato in Gesù il Messia, lo troviamo che anche nel momento in cui stava in prigione è preso dal dubbio se il comportamento di Gesù indichi proprio la sua realtà di Messia. Perché il Messia che lui aveva, che annunciava, era un Messia radicale, che avrebbe posto, come diceva lui, la scura alla radice, cioè avrebbe portato alla separazione, la realtà dei buoni e la condanna dei cattivi. Invece il messaggio di Gesù si distacca. Il messaggio di Gesù diventa un messaggio di salvezza per tutti. Gesù dice io sono venuto per i malati, non per i sani. Sono venuto per i peccatori e la volontà del Padre è che nessuno si perda. Quindi tutta la predicazione di Gesù sarà, l'annuncio di Gesù sarà un annuncio di misericordia, una possibilità di salvezza per tutti. E questo si distaccava molto dalle attese del Battista. Ecco, possiamo aggiungere un altro aspetto che lega queste due persone, cioè il rapporto che c'era tra i discepoli. Sia Gesù sia Giovanni sono seguiti da un gruppo di discepoli, un gruppo di discepoli i quali sostengono, accolgono l'insegnamento reciproco del Maestro. Giovanni indirizzerà alcuni di discepoli a seguire Gesù, proprio perché lo aveva indicato come Messia. E secondo gli evangelisti, sia i discepoli di Giovanni che quelli di Gesù usavano il segno dell'immersione. Abbiamo degli accenni in cui sembra che anche i discepoli di Gesù immergessero nell'acqua, battezzassero, noi usiamo dire, ma non è un po' improprio, immergessero nell'acqua come segno di conversione. E vediamo anche che c'era una frase dove si dice che i farisei avevano sentito dire che i discepoli di Gesù facevano più adepti dei discepoli di Giovanni. Quindi questo ci dice che siamo in un ambiente un po' quasi di competizione delle due scuole di spiritualità, possiamo dire. E un'altra caratteristica ancora è che i discepoli di Giovanni si attengono alle pratiche religiose tradizionali. Loro fanno digiuni, ci viene detto, e sono legati alle purificazioni rituali. Un po' sulla linea soprattutto della pratica dei religiosi farisei, anche se diciamo loro non hanno quell'aspetto di esteriorità, di ipocrisia in senso letterale, che Gesù rimproverà ai farisei. Mentre i discepoli di Gesù non si curano di questo, perché il contenuto dell'insegnamento di Gesù è il andare all'essenziale, cioè di capire che cos'è più importante, se è l'esteriorità, la purificazione esteriore, o se è la purezza del cuore, delle intenzioni con cui si opera, eccetera. E quindi Gesù cercherà di esprimere non tanto la penitenza, l'invito ai digiuni, quanto di vivere la gioia della novità che lui porta, che esprimerà con il concetto del vino nuovo in otri nuovi. Ecco, ora un pensiero lo dedichiamo a comprendere la realtà che esisteva al tempo in cui i Vangeli sono stati scritti, perché noi dobbiamo sempre tenere presente che i testi che noi abbiamo risalgono a parecchi anni dopo la morte di Gesù, 30, 40, forse 50 anni, 60. Quindi quando le comunità sono già da tempo in piena attività, vivono, gli autori si riferiscono a situazioni concrete del proprio tempo, per cui i propri lettori sono un po' l'oggetto della preoccupazione dell'autore. Se gli evangelisti scrivono è perché devono trasmettere dei messaggi a quelli del loro tempo anche. E allora sia gli atti degli apostoli e sia Paolo ci testimoniano che esisteva contemporaneamente alle prime comunità cristiane ancora anche delle comunità giovannee che si rifacevano all'insegnamento del Battista e che, noi per esempio, Paolo ci dice, conoscevano soltanto il battesimo di Giovanni. Paolo, quando andrà a Efeso, si incontrerà Apollo che conosceva soltanto il battesimo di Giovanni, non conosceva l'annuncio e il messaggio di Gesù. E quindi era necessario chiarire un po' le loro intenzioni, i loro rapporti, diciamo, tra queste comunità. Così alcuni fatti che gli evangelisti scrivono e alcuni discorsi, dialoghi che mettono in bocca i nostri personaggi a Giovanni e a Gesù risentono anche della necessità di chiarire e di dimostrare la superiorità della fede cristiana, dell'annuncio cristiano rispetto al messaggio di Giovanni il Battista, come lui stesso aveva indicato. E quindi ha rispetto alle comunità cristiane che erano come un po' un sviluppo delle comunità giovannee, non dovevano contrapporsi ma dovevano crescere verso il messaggio di Gesù. Un po' come Giovanni aveva detto che la sua funzione era preparatoria rispetto, era un po' il precursore rispetto al messaggio cristiano, all'annuncio di Gesù. E questo farà anche la coppia cristiana che stava ad Efeso, Aquile e Priscilla, nei confronti di Apollo. Lo prenderanno in disparte e gli spiegheranno meglio il messaggio di Gesù che completava, integrava e superava il messaggio che lui conosceva del Battista. Ecco allora che gli Evangeli hanno anche lo scopo di facilitare e di affrontare la convivenza delle comunità cristiane con le comunità giovannee, soprattutto nel territorio dell'Asia minore, dove era presente un po' l'insegnamento e le comunità che si rifacevano al Vangelo di Giovanni. Ecco allora concludiamo con un pensiero che cogliamo proprio dal Vangelo di oggi. Nel brano del Vangelo che ci interessa, di Giovanni, vediamo che Giovanni riporta i segni che indicano la funzione di Gesù. Dice Gesù sarà colui che battezzerà in Spirito Santo e qui manteniamo la parola battesimo nel senso che è il dono dello Spirito che ci viene donato. In questo senso Gesù lo userà e in questo senso lo usiamo anche noi. Il nostro battesimo è il momento in cui scegliamo di seguire il messaggio di Gesù, di essere i suoi discepoli e quindi riceviamo la forza, lo Spirito, la stessa vita divina nel dono, nel segno del battesimo. Ecco allora il nostro battesimo è la scelta di seguire Gesù da una parte che viene sostenuta dal dono dello Spirito dall'altro. E l'altro aspetto che viene messo in evidenza nel Vangelo di oggi ci battezzerà nello Spirito e dice lui è il figlio di Dio e noi comprendiamo che se lui è il figlio di Dio e ci dona la sua stessa vita attraverso il suo Spirito ci fa anche noi figli di Dio. Ecco perché diciamo che col battesimo diventiamo figli di Dio. Cioè ci dà la coscienza, non ci cambia la nostra realtà di creature fatte da Dio, ma ci dà la coscienza di essere parte, di avere dentro di noi la stessa vita di Dio. E come dice Paolo, se abbiamo la stessa vita di Dio saremo anche suoi eredi, cioè partecipi della pienezza della vita, della gioia, della gloria di Dio. Ecco qual è il fondamento della nostra speranza e il motivo del nostro vivere nella gioia, nella serenità, nonostante le difficoltà che spesso incontriamo nella vita, guardando con fiducia allora a quello che il Signore ha voluto donarci. Grazie.